Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, torniamo a parlare del caso della morte di Martina Rossi, la giovane studentessa che morì cadendo da un balcone da un hotel a Palma di Mallorca. I due aretini legali dei due aretini che sono stati condannati per questo caso hanno citato proprio l'hotel. Il dubbio dei due legali è se i balconi fossero o meno a norma. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Oltre un milione di euro, questa è la richiesta di risarcimento presentata dai genitori di Martina Rossi, la giovane Ligure morta precipitando dal sesto piano di un hotel di Palma di Mallorca il 3 agosto 2011 ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. La richiesta è stata presentata al Tribunale Civile di Arezzo. I legali dei due aretini condannati a tre anni per tentata violenza sessuale hanno invece citato in giudizio la stessa struttura alberghiera, teatro del tragico episodio, chiedendosi se la stessa avesse tutti i requisiti di sicurezza. Per la sentenza di condanna la ragazza sarebbe volata giù cercando di sfuggire ad un tentativo di stupro. Occorre, spiegano adesso gli avvocati Tiberio Baroni e Stefano Buricchi, ricostruire i fatti e capire se l'hotel avesse i requisiti necessari di sicurezza, tali da impedire la caduta di Martina Rossi o di qualsiasi altro ospite. Va stabilito insomma se il balcone fosse o meno a norma. Il giudice Pieschi ha accolto la richiesta avanzata dai legali difensori. Così l'udienza in programma per il prossimo 7 marzo è slittata al 19 settembre, giorno in cui il giudice dovrà decidere anche sulla richiesta di disarcimento fatta dai genitori di Martina Rossi. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi infine stanno scontando ancora la condanna in regime di semilibertà. Ancora furti nel centro di Arezzo, ne sono accaduti tre a pochi giorni di distanza e anche a pochi metri di distanza il servizio. Ennesimo furto ad un negozio del centro di Arezzo a poche ore di distanza da quelli già avvenuti, l'ultimo in ordine di tempo è successo proprio a Vagheggi, storico rivenditore di biciclette. Bastato un attimo di distrazione, la bici era in officina e ne hanno approfittato. Furto con destrezza, cioè è stato veloce? Assolutamente. La bici era in preparazione, quindi mancava la batteria, a sellino, ma è piaciuta uguale. A distanza di poche ore sono in tutto tre i colpi messi a segno nel giro di pochi chilometri. Vagheggi si trova in via Salorentino, l'altro furto invece all'ottica all'occhiale era avvenuto in via Montefalco dopo la profumeria Caddi in piazza Risorgimento. E' entrato e dopo è scappato subito, ha rubato tre occhiali e è scappato subito. Non ha fatto finta di essere un cliente? Si pensava infatti noi che fosse un cliente e invece ha guantato tre occhiali della vetrina e è scappato in bicicletta. Poi noi l'abbiamo rincorso ma essendo in bicicletta e noi a piedi dopo un pochino abbiamo perso le tracce. Sul caso sta indagando la polizia al vaglio degli inquirenti anche le immagini di video sorveglianza dei negozi. Dovrebbe essere sempre la stessa persona che li fa ma non riescono a trovarlo. C'è allarme nella zona fra di voi? Eh certo, ora bisogna organizzarsi perché qui poi non si riesce a trovare questa persona che fa i furti. Allora bisogna stare attenti, un po' di paura. Anche la mia mamma che era qui in negozio ora ha paura di stare da sola. Insomma, è una situazione non bella. Un problema a sicurezza ad Arezzo secondo lei? Eh sì, la sera qui specialmente, certo, è buio, non c'è controlli, c'è pochi controlli, c'è gente strana in giro. Purtroppo qui c'è pochissime attività. Lunedì il bar che almeno c'è un po' di gente è chiuso quindi sanno anche questo. Oggi 15 febbraio, giorno in cui gli aretini vennerano la Madonna del Conforto, la protettrice che li salvò dal terremoto. Una festa che si rinnova senza le restrizioni dovute al Covid, come invece è successo nei due anni passati. E allora tanti gli aretini che si sono appunto riversati in Duomo. Due le celebrazioni più importanti, una questa mattina alle 10.30, l'altra alle 18.00. Insomma, vediamo tutta la cronaca nel nostro servizio. Con la fede dentro uno guarda il quadro e chiede protezione, protezione a questa nostra madre, insomma, la nostra madre di Arezzo, la madre di Dio, ecco, che ci aiuti nell'infinito. Bisogna credere di più, come ha detto lei, ecco, con gioia però, eh, non con tristezza perché, eh, con gioia, dico bene. La leggenda che diventa tradizione, dal 1796 gli aretini venerano l'immagine mariana della Madonna del Conforto, da quando la piccola terracotta, ritrovata in una cantina, si illuminò e liberò Arezzo dal terremoto. Un racconto oggi quanto mai sentito con le immagini a cui tutti noi abbiamo assistito della tragedia in Turchia e Siria. Lo stesso cardinale Augusto Paolo Loiudice, vescovo di Siena, che ha presieduto la messa della mattina, lo ha ricordato. Talmente evidente, ce l'abbiamo talmente nella mente e nel cuore questa situazione. Tra l'altro questa, la Madonna che protegge dai terremoti, un po' me la porto qualche giorno a Siena. Ovviamente non abbiamo avuto nessuna grave conseguenza, insomma, qualche chiusura di qualche luogo, anche del Duomo per un po' di giorni, ma insomma solo per verificare che non ci fossero danni o problemi anche in queste scosse di terremoto che abbiamo avuto nei giorni passati a Siena. La guerra e soprattutto le vittime del terremoto sono davanti ai nostri occhi momento per momento. E credo che proprio anche l'atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti di quello che succede lontano da noi, ma anche vicino da noi, spinti proprio da questo fate quello che vi dirà, credo che questa sia la miglior risposta, al di là del fatto che chiaramente continuiamo a pregare. E poi il 10 marzo ci uniremo, per esempio a Siena unirò alla preghiera per la pace, c'è anche la commemorazione per tutte le vittime del terremoto e giustamente dobbiamo continuare non solo nella preghiera, ma anche nel concreto a sostenere, a promuovere, a inviare aiuti, a fare tutto quello che è possibile, tutto quello che il Signore ci ispira. Preghieri e pensieri dunque affidati all'immagine sacra, ma anche occasione per ribadire l'importanza di lavorare per la pace in Ucraina. Io ho l'impressione che siamo in un momento di follia del mondo, dove si continua a parlare di armi, di produzione, di consegna, di armi, e quindi stiamo alimentando le strade della guerra e dello scontro. Occorre il coraggio e forse presenze, figure profetiche, segni che invece ci riportino sulle strade del dialogo. Certo, nessuno mette in dubbio che c'è un aggredito e un aggressore, questo è pacifico e quindi noi dobbiamo anche cercare la pace sulla via della giustizia, cioè ripristinando la giustizia e chi è aggredito va sostenuto, va difeso, va accompagnato, ma cercando con la fantasia dei semplici, ma anche con la responsabilità dei grandi, cercando le strade del dialogo, della pace, dell'incontro, del cercare un punto di soluzione più che la strada delle armi. Andiamo a parlare della vicenda degli odori molesti a Chiani e non solo, sono altre le fazioni che appunto hanno manifestato più volte questo tipo di disagio, sono ormai quattro mesi appunto in cui il comitato Stop Puzzo Arezzo si sta impegnando proprio per cercare di risolvere il problema. Dopo una prima assemblea a novembre ce ne sarà un'altra venerdì prossimo, sentiamo i dettagli nel prossimo servizio. Sono passati alcuni mesi da quando il comitato Stop Puzzo Ad Arezzo si è mosso con le istituzioni a retine per risolvere il problema dei cattivi odori che spesso si sentono nelle zone di Chiani, Via Romana, Le Poggiolo e Battifolle. Dopo le innumerevoli segnalazioni raccolte anche sulle pagine social del comitato, venerdì 17 febbraio alle 21 si terrà un'altra assemblea dei cittadini presso il circolo di Chiani, la seconda dopo quella di novembre scorso per dare aggiornamenti sulla situazione odori molesti. Il comitato riporterà tutto ciò che le istituzioni e gli organi di controllo stanno facendo e il lavoro che è in procinto di essere svolto per risolvere la grave problematica. Il disagio è forte, ribadisce il comitato, alle porte della primavera, i tempi si stringono e il timore di ritrovarsi di nuovo a finestre chiuse aumenta. Tanti ancora gli approfondimenti da fare, ma sia Arpat che Asla stanno collaborando. Il comitato ci tiene infine a ribadire che a politico si tratta di un gruppo di persone che a cuore la salute e la sicurezza pubblica perché la vita è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi. Adesso invece parliamo di sanità. L'ospedale della Gruccia in Valdarno sarà di nuovo possibile partorire in acqua il servizio. È andata benissimo. Io la consiglio sicuramente perché mi ha arrivato tanto il dolore. Quindi è andata bene. È durato un'ora da quando sono entrata in acqua, però è andato molto bene. A meno di 24 ore dalla riapertura della vasca nativa all'ospedale del Valdarno c'è già stato un parto in acqua, quello che è dato alla luce la piccola Vittoria. Le mamme che vorranno, infatti, potranno tornare a dare la luce ai propri bambini in acqua anche al Santa Maria alla Gruccia. La vasca allestita nel reperto di ostetricia e ginecologia rimasta chiusa dall'ugio 2022 è tornata in funzione nel giorno di San Valentino. Per noi è un fiore all'occhiello perché in effetti molte mamme decidono di partorire oppure di fare il travaglio proprio nella vasca, in acqua. L'anno scorso abbiamo avuto 493 parti, quindi siamo sotto la soglia prevista di 500, però senz'altro una parte in parte è dovuto al fatto che non era disponibile la vasca e anche al percorso Covid che siamo riusciti ad attivarlo solo alla fine dell'anno per cui circa, per quanto riguarda il percorso Covid, circa una ventina di donne sono state indirizzate all'ospedale San Donato di Arezzo proprio perché Covid positive. È chiaro che se capitava una partoriente che doveva partorire ed era Covid e partoriva ugualmente anche qui nell'ospedale, però se si sapeva prima è chiaro che si mandava verso l'ospedale San Donato di Arezzo che era per le pazienti Covid positive. Quindi speriamo senz'altro quest'anno di incrementare questo numero e di superare la soglia dei 500 come già era avvenuto in epoca precedente. Spettatori, allievi per allievi e teatro interiore, un tris di progetti. Per la libera accademia del teatro, la stagione invernale della storica scuola retina entra nel vivo con un ricco calendario di appuntamenti che tra febbraio e marzo permetteranno di vivere la ricchezza, la varietà e l'emozione appunto dell'arte teatrale. Il primo appuntamento martedì 21 febbraio alle 21 quando gli allievi attori dei corsi junior di Francesca Barbagli saliranno sul palco del teatro Pietro Arettino in via Bicchieraia con Romeo e Giulietta. E tornano anche gli appuntamenti di invito di sosta. Con Closing Party, arrivederci e grazie, è tornata la rassegna inviti di sosta al Teatro Mecenate di Arezzo in Prima Nazionale il duetto dal carattere politico e divertente di Alessandro Bernardeschi e Mauro Paccagnella alias Washing Machine. Lavoriamo sulla memoria personale che molto spesso riesce a toccare la memoria collettiva dal personale al collettivo, all'universale, lo speriamo e comunque sono memorie di ragazzi e adolescenti degli anni 80, fine degli 70 anni 80 con tutto quello che è stata la società, la cultura, la televisione, la politica, la violenza di quegli anni la bellezza di quegli anni che ci portiamo addosso e cerchiamo di ritrasferirla nelle azioni, nei gesti, nelle proposizioni che facciamo. Closing Party chiude la trilogia della memoria, una festa senza lustrini che offre l'opportunità di riflettere e intravedere gli ultimi sussulti delle grandi utopie della storia con umorismo spesso nero e leggerezza con poesia ed esperienza. La danza era quando ero giovane la forma, espressione, prodezza, virilità o leggerezza adesso il corpo è portatore di memoria, portatore di storie le fragilità diventano delle qualità, quando ero giovane le fragilità le tenevo distante e invece adesso diventa proprio questa fragilità, diventano importanti la fragilità più sono accompagnate da una coscientizzazione di questo il che vuol dire memoria, storia, conoscenza relativa perché non è che dobbiamo essere tutti iperintelligenti per poter fare gli spettacoli però una sensibilità di quel tipo là, certo, è importante. Ci sorridiamo per dirci Arrivederci Addio a Don Vezio Soldani, il parroco che per anni ha guidato la parrocchia di Badia delle Sante Flore e Lucilla è morto proprio ieri, 14 febbraio, alla vigilia della festa della Madonna del Conforto di origini valdarnesi, fu consacrato sacerdote nel 1951 proprio nella cappella della Madonna del Conforto dal 2001 tornò nella Badia delle Sante Flore e Lucilla per celebrare la messa per il suo settantesimo anniversario di sacerdozio mentre nell'anno delle sue 90 primavere incontrò il Papa Francesco e Papa Benedetto XVI Una panchina rossa per sensibilizzare contro la violenza sulle donne il tennis giotto torna ad abbinare lo sport e il sociale con un gesto volto a testimoniare un messaggio di stretta attualità e allo stesso tempo stimolare una riflessione sui temi delle pari opportunità, dell'uguaglianza e della festa dei diritti una targa inoltre che ricorderà il significato di questa iniziativa attraverso le parole di Maya Angelou un esempio di forza e determinazione nell'affermazione della dignità e dei diritti civili delle donne ogni volta che una donna lotta per se stessa aveva detto lotta per tutte le altre Siamo alla pagina dello sport lo stadio comunale di Castiglione Fiorentino candidato come centro di allenamento per UEFA Euro 2032 l'assegnazione dell'evento da parte del comitato esecutivo è prevista tra settembre e ottobre di quest'anno tra le condizioni premianti per poter presentare la domanda c'era una favorevole logistica per gli atleti, le caratteristiche dello stadio oltre a quelle della città ospitante una serie di requisiti che hanno consentito appunto a Castiglione Fiorentino di essere inserita tra le candidate in vista appunto di questa importante competizione Infine parliamo dei bozzetti per i cento anni dell'Arezzo, del Cavallino sono 22 quelli tra cui appunto potranno scegliere i tifosi le modalità di voto sono già state pubblicate proprio nel sito ufficiale della società sono appunto arrivati 22 loghi realizzati dai tifosi del Cavallino e anche da alcuni appassionati residenti anche fuori proprio dai confini toscani nelle prossime settimane saranno svelati i loghi nel corso della cena organizzata dal comitato orgoglio amaranto e appunto partirà la votazione intanto ogni tifoso potrà votare una sola scheda esprimendo fino ad un massimo di tre preferenze è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per essere stati con noi, arrivederci